Il Signore sia con voi, dal Vangelo di secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli comuni siederà sul trono della sua gloria, davanti a lui verrà hanno radunati tutti i popoli e separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capi e porrà le pecore alla sua destra e le capi alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra, venite benedetti dal pallinio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete racconto, nudo e mi avete vestito, palato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovare. Allora i giusti risponderanno, Signore quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, ho assetato e ti abbiamo dato da bere, quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto o nudo e ti abbiamo vestito, quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarvi. E il Re risponderà a loro, in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno e non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra, via, lontano da me maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno, Signore quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito, allora egli risponderà a loro, in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Celebriamo la commemorazione dei fedeli di Fiume, di tutti quei nostri fratelli che, avendo terminato il percorso su questa terra, si sono già presentati davanti a Dio per ricevere il giusto della ricompensa che gli attena. Se ieri contemplavamo la gloria dei santi, il paradiso, coloro che godono del cielo, oggi ricordiamo quelle persone che ci sono cari, quelle persone che ci sono state vicine, con quei volti, quei nomi che ognuno di noi nel profondo del proprio cuore, ricorda e tieni via. I defunti. I defunti sono coloro che, chiudendo gli occhi su questa terra, hanno iniziato la vita in Cristo. Coloro che, chiudendo gli occhi su questa terra, hanno cominciato quella vita nuova che, lungo il cammino sulla terra, hanno creduto, professato e aspettato. Quando il giorno dell'Epifania, dopo il Vangelo, viene annunciata la Pasqua, viene annunciata la data della Pasqua, al termine di quel testo si legge che la Chiesa, pellegrina sulla terra, nella commemorazione dei fedeli defunti, proclama la Pasqua del suo Signore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la liturgia che stiamo celebrando in questo momento, come la liturgia che celebriamo ogni volta che celebriamo le esepie, il saluto a un fratello o a una sorella che ci ha lasciato, non è una celebrazione di morte, ma è una celebrazione della Pasqua. È come se noi celebrassimo il giorno di Pasqua. Lo vediamo, il cero pasquale acceso, segno di Cristo risorto, segno di quella luce che rischiara le tenebre della morte, quel cero che viene acceso la notte di Pasqua e che accompagna tutto il tempo pasquale proprio a ricordare questo, Cristo morto è risorto. Certamente, quando celebriamo un lutto, quando una persona cara ci ha lasciato, è fatica a fare festa. Portiamo nel profondo del nostro cuore il peso della sofferenza, il peso del dolore, le relazioni si interrompono. Ma la nostra fede ci fa dire che queste relazioni interrotte in questo modo si costruiscono in un altro modo, attraverso Cristo, morto e risorto. Ed è per questo che la liturgia di questo giorno, seppure con i colori, con le dinte abbastanza dimesse, abbastanza funere, però ci ricordano sempre il centro della nostra fede. Cristo morto e risorto. Allora la morte assume per forza, inevitabilmente, un significato diverso. La morte spaventa l'uomo, lo ha sempre spaventato e continuerà sempre a spaventare, perché è qualcosa che non fa parte dell'uomo. La morte, dice, la scrittura è entrata nel mondo per invidia del diavolo, perché il diavolo odia talmente tanto l'uomo che lo vuole separare da Dio. Come? Attraverso la paura. Attraverso la paura della morte. Attraverso la paura di quel momento che altro non è che è l'aprirsi di quella porta, perché ci rende possibile contemplare volto a volto, faccia a faccia, quel Dio che ci ha creato. Oggi la morte paradossalmente viene allontanata dal modo di pensare, dal modo comune di vivere. Oppure viene dirisa. se ci pensiamo bene, le nostre informazioni che ci arrivano, i giornali, i giornali, continuamente parlano di morte. Continuamente parlano di persone uccise o morte nelle maniere più tragiche. Non è vero che la morte non è nella nostra vita. Anzi, oggi è molto più presente rispetto a tanti altri tempi passati. Ci guardiamo attorno, tutto parla di morte. Però come viene affrontato questo tema? Come viene affrontata questa realtà? Se ci ricordiamo, siamo appena giunti dalla sera del 31 di ottobre, la morte viene delisa. Proviamo a pensare come viene affrontato appunto questo, la famosa serata di Halloween. Mostri, zombie, morti viventi che quasi canzonano, prendono in giro questa realtà. Ma perché? Chi piange? Non è semplicemente una pura festa di divertimento. C'è un messaggio sotto fuoco. Che questa realtà che fa paura, siccome io non riesco ad affrontarla, siccome io umanamente non trovo le risposte per risolvere questo problema oggettivo dell'uomo, la risposta che ci siamo dati, che l'umanità si è data qual è? Prenderla in burro, prenderla in giro, divertirsi su questo, pensando che facendo in questo modo allontano il problema della morte, la paura della morte. Ma la parola di Dio ci dice un'altra cosa. La morte non è la fine dell'uomo. La morte è Cristo morto e risorto, che si dona a ciascuno di noi e che a ciascuno di noi dona la vita eterna. Allora ricordare i nostri fratelli diffusi, coloro che sono già passati attraverso questa porta, diventa per noi l'occasione per riprendere in mano la nostra fede. Con che cosa crediamo? Crediamo in Cristo morto e risorto. Lo diciamo tutte le domeniche nel credo. Ma è poi così vero? È poi così fondamentale nella nostra vita questo credo? O viviamo come se Cristo non fosse risorto. E di conseguenza ci spaventiamo e cerchiamo tutti i modi per allontanare il pensiero e la paura della morte. Perché se Cristo è risorto, che paura dobbiamo avere? Perché se noi celebriamo la risurrezione di Cristo e celebriamo la nostra risurrezione nel battesimo, che paura dobbiamo avere davanti a noi? Cristo morto è risorto e dona a ciascuno di noi e la vita eterna. L'abbiamo sentito nel Vangelo. I giusti andranno alla vita eterna. Allora, in questo giorno, ricordiamoci dei nostri fratelli, delle nostre sorelle che hanno già chiuso gli occhi su questa terra e li hanno già aperti in cielo. Ma facciamoci coraggio null'altro. Guardiamo quel cielo acceso, ricordiamoci ancora una volta che Cristo ha vinto la morte e che la morte va affrontata con questo spirito, con questa intenzione, il passaggio dalla morte alla vita. Allora, seppure non riusciremo a togliere il dolore, la fatica, la sofferenza per quelle persone che ci hanno lasciato, sapremo vivere quei momenti con la speranza del cristiano. La speranza che ci fa dire non è finito tutto, ma anzi, inizia una nuova vita e finalmente la vita eterna.